A resistere Erdogan ci aveva approvato, ma alla fine, a meno di un mese dalle elezioni presidenziali, ha dovuto arrendersi e per bloccare il crollo della lira turca ha dovuto accettare la manovra di salvataggio della banca centrale che ha alzato del 16,5% i tassi di interesse. Una manovra necessaria dal momento che soltanto nell'ultimo mese la lira aveva perso il 19% rispetto al dollaro. Ci sono concreti indizi del fatto che Erdogan stia stringendo la presa non solo sulla Turchia, ma anche sulla politica economica del paese, con la banca centrale che è certamente al centro delle attenzioni del governo. E credo che i mercati stiano iniziando a spaventarsi riguardo alla portata delle interferenze governative rispetto alla politica della banca centrale. Questo è stato certamente uno dei fattori che hanno portato la lira a perdere terreno. In Turchia in effetti sono in molti a ritenere che le stesse elezioni di giugno siano state indette in anticipo per capitalizzare la popolarità di Erdogan prima dell'esplosione della crisi economica, ma in questo senso probabilmente è già troppo tardi. Certo che perdiamo denaro, spiega questo commerciante nel Gran Bazar di Istanbul. Dal momento che paghiamo i nostri affitti in dollari statunitensi, e gli affitti sono generalmente calcolati in base al valore del dollaro e al prezzo dell'oro, il nostro affitto al momento è di 5.000 dollari al mese, l'anno scorso ne pagavamo 3.500. L'intervento della banca centrale in realtà potrebbe non essere sufficiente a bloccare la caduta libera della lira, che ha ripreso a perdere valore dopo un sollievo iniziale. Secondo gli esperti, purtroppo, il peggio deve ancora arrivare.